Questo programma è offerto da Tecnocampus Martedì 4 giugno, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana Rassegna Stampa Che come ogni mattina è offerta da Tecnocampus Anche oggi tanti sono i fatti in primo piano Ma questa mattina risulta essere evidente Quello che è stato l'appello di ieri del Premier Conte ai due viceministri A tutto il governo In cui ha dichiarato Se non arriviamo a una soluzione, a un accordo io mi dimetto E questo è il primo punto che adesso sembra far tremare Realmente il nostro governo Un ultimatum che adesso vedremo a che cosa condurrà Ma cominciamo subito a sfogliare le pagine dei quotidiani nazionali E partiamo questa mattina con il Corriere della Sera Che apre proprio su questa notizia Conte una svolta o mi dimetto L'ultimatum agli alleati Basta, non vivacchio Ma subito una nuova frattura sui cantieri Arriva direttamente dalla Liga Intanto che cosa accade? Le regole europee vanno rispettate A dirlo il Presidente del Consiglio E Salvini duro, entro giugno vedremo Non accelereremo i no E questo è il punto di vista appunto del Vice Premier Salvini Ancora la pazienza è finita E si riferisce nell'editoriare sempre a quello che ha detto il Premier Conte E ancora non diventi una burla questo nostro governo Intanto l'intervista a Di Maio Un vertice al più presto E nella parte centrale della pagina Ci spostiamo e andiamo a Londra Il Presidente degli Stati Uniti Il ricevuto a Buckingham Palace La stretta di mano poco rituale Trump è in visita alla regina Intanto nella parte destra della pagina Torniamo proprio nella nostra Italia Ha bloccata un paese che non riesce a decidere Mentre l'aumento dell'IRPEF è già scattato Pensate un po' in 469 comuni Insomma siamo già alle strette E ancora vediamo le altre pagine nazionali La verità Ricordatevi di Lambertodini La minaccia di Conte è un governo tecnico Il Premier mette sul piatto le sue dimissioni Se Di Maio e Salvini non la smettono di litigare Mentre Grande Stampa e i palazzi che contano Spingono per le elezioni anticipate Ma c'è il rischio di una vera e propria fregatura Ormai emergenza Però dei grillini al potere Non se ne può più davvero E infatti a dirle Marcello Veneziani Mentre nella parte centrale della pagina Arriva il maxiscivolo per le grandi aziende Sopra i mille dipendenti Potranno pensionare con 7 anni di anticipo In caso di ristrutturazione Mentre vediamo il fallimento del PD Veldroni rimendica di aver aperto la porta all'invasione E la parrucchietta Ma perché Lerner deve stare in Rai e le maglie Invece no E infine nella parte bassa della pagina Guardate Ponete proprio l'attenzione su questa notizia Perché questa davvero succederà E già sta suscitando tante polemiche Proprio perché mancano i medici Il Molise chiama i militari E infatti il commissario vuole i dottori con le stellette Per scongiurare la chiusura dei reparti E intanto la rete del Renziano Lotti Per condizionare le scelte dei magistrati Questa è insomma la situazione in cui ci troviamo Proprio in questi giorni Carenza anche di personale medico Per tante e svariate ragioni E adesso si ricorre in una regione Quale il Molise Proprio all'intervento militare Sembra che siamo proprio con l'acqua alla gola E intanto il fatto quotidiano Trump style il presidente dei USA sbarca a Londra Fa l'amicone e stringe la mano alla regina Ma soprattutto si occupa dei suoi affari privati in Gran Bretagna E nella parte alta della pagina L'ultimatum il premier non vuole galleggiare In serata sbotta basta affronti Conte allora me ne vado Subito dopo il suo discorso Salvini va alla rottura come momento 5 stelle sullo sblocca cantieri Infatti la conferenza del premier a Palazzo Chigi Non ricompatta la maggioranza Il leghista continua la sua partita Sperando nel voto E infatti vediamo Casa Lega Matteo fa ancora il gradasso Flat tax linea dura sui conti Con l'Unione Europea E in casa 5 stelle invece di Maio Noi ci siamo Restiamo maggioranza Ma il Movimento 5 stelle è diviso Insomma questa è la vicissitudine Che stamattina si presenta nel nostro governo Da un lato la Lega guidata da Matteo Salvini Che comunque già pronto per andare al voto Forte del suo 34 e oltre per cento Alle europee Dall'altro canto invece vediamo Matteo Scusate Luigi Di Maio Del Movimento 5 stelle Che dice io ci sto vado avanti E ovviamente voglio dare una svolta a questo governo Però all'interno dello stesso movimento Ci sono fratture che sembrano essere insanabili Quindi adesso vedremo questo ultimatum di Conte A cosa condurrà E intanto nella parte centrale della pagina CSM Lotti C'è il nome di Armini Che va a confessarsi al Quirinale Oggi il plenum dell'organo di autogoverno Della magistratura E ancora le nuove accuse Il longo PM corrotto Una smart in regalo E una toga di Roma E intanto il conflitto di interessi Ecco tutte le indagini a Roma Sul gruppo Repubblica Espresso Mentre nella parte bassa della pagina Andiamo a vedere quelli che sono i poteri forti Ecco di cosa si parla nelle riunioni più segrete E infatti si parla del Balderberg Visto da dentro Cinque anni fa i post sui social Durante il meeting Balderberg Erano 20.000 nel 2019 Sono state poche centinaia I contestatori Coninti che nell'hotel Formon a Montreux in Svizzera Si prendessero decisioni segrete Erano una decina di pacifici Gile gialli E quattro blogger Eppure questo evento Il numero 67 Continua a far discutere Io ho partecipato da giovedì sera A domenica E l'aspetto più dibattuto È la segretezza Anche se online Viene pubblicata la lista Sia dei partecipanti Che degli argomenti I meeting del Balderberg Iniziarono nell'omonimo hotel Nel 1954 A Osberg Su iniziativa del principe d'Olanda Bernardo Insomma si parla di segretezza Una segretezza Che però sembra essere Non del tutto manifesta Anche perché ci sono Tanti punti Che sono alla luce del sole Ma diciamo che La realtà Di quando si tiene Misterioso Un qualcosa E che esso Diventa ancora più Interessante E vediamo libero Questa mattina Come affronta i temi Di oggi Conte Quasi quasi me ne vado Anzi no Il rugito del coniglio Così lo definisce Questa testata E siccome non sa più Gestire il governo Il premier Domanda a Di Maio e Salvini Se vogliono continuare O tornare a casa E minaccia Basta liti oppure lascio I suoi vice Intanto nicchiano Il fidanzato di Roma Il peggior fico Del bigoncio E proprio fico E intanto Nella parte centrale Della pagina La lettera di Formigoni Dal carcere Nonostante tutto Riesco a vivere Questa ingiustizia Dice E ancora Caro Roberto Chiedi la grazia E facciamola Finita con la galera Mentre nella parte bassa Della pagina Dal Movimento 5 Stelle Al PD Fino alla Meloni Chi preme Per donare 12 miliardi A Roma E infine Sempre nella parte bassa Altro che allarme Razzismo Crescono le imprese Fondate da Immigrati E anche questa È una pura e semplice Realtà Ma bel lontano Dal rappresentare Un superamento Del razzismo Piuttosto Una volontà Di farsi strada In un territorio Che presenta Tante caratteristiche Positive E intanto Vediamo che sono I medici italiani I più stressati D'Europa E questo l'allarme Che viene lanciato Proprio da Libero In questa giornata E secondo Questa testata Per curare Gli altri Trascurano Se stessi Una realtà Che abbiamo Molto spesso Sotto gli occhi Tanto è vero Che la maggior parte Dei medici Che curano I loro pazienti Sembrano Essi stessi Non avere La volontà Di curarsi O forse Semplicemente Non avere Il tempo Laddove si presenta Qualche difficoltà O semplicemente La vita quotidiana E ancora Vediamo il giornale Conte Stoppa Salvini Apre la crisi Il premier Parla già da ex Basta liti E invasioni di campo Mollo Nuovo scontro Sullo sblocca Cantieri Il leghista Avanti come dico io Berlusconi Si dimettano Perché hanno paura Di andare a casa Lo racconta Alessandro Salussi Nel suo editoriale Infatti Ancora c'è Un tentennamento Dal lato Sembra Non essere Stata presa Una decisione Ma dall'altro Ancora Si trascina Questa situazione E intanto La tentazione Schettino Del governo Che vede nero Nessuno vuole Pagare la manovra E ancora Vediamo Nella parte Più bassa Della pagina Cinque bosniache Arrestate a Roma Due giugno Festa dei Rom E intanto Borseggiavano Alla parata E i PM A caccia Della talpa All'economia Tria E la manina Tutto pronto E nella parte centrale Vediamo un premio Alla carriera Per la Wirtmüller Lina e l'Oscar Al macio distrutto E anche qui Vediamo Nella parte Bassa L'emergenza Sanità Dal Molise Al Veneto Ospedali A rischio Chiusura Arrivano I medici Militari Insomma Si cerca Una soluzione Che sia Il più indolore Possibile E soprattutto La più immediata E il tempo Vive Rom E quelli che fanno fesso Fico Presidente della Camera Dedica loro la festa E la parata Del 2 giugno Partono i borseggi Cico e Bosnia Che si mettono a scipare Gnignari turisti In fila Per lo spettacolo Subito però Prese E intanto Ostia Antica In fin di vita C'è del cancello Schiacciato Un bimbo Pensato un po' Di soli sei anni Una tragedia Di quelle Violente E ancora Vediamo Una farsa Pure l'ultimatum Di Conte Le cifre Su sbarchi E rimpatri Salvini si prepara Al voto Con i numeri Del Viminale All'insaputa Dei vertici Ma ai ballottaggi Spunta Linciucio Lega Stellato E ancora Vediamo Le altre pagine Dei quotidiani Nazionali Dalla Repubblica Penultimatum Di Conte Ma la Lega Non ci sente Presidente del Consiglio Con l'Europa Tratto Io stop All'elite O me ne vado E l'apertura Sulla Tav Percorso segnato Mentre Giorgetti Ombrello inutile Se la pioggia È radioattiva E la Lega Va subito all'attacco Sul decreto Sblocca Cantieri Da Bruxelles L'Italia Una settimana Per evitare La procedura Di infrazione Ancora Vediamo Nella parte Centrale Della pagina Trump Un americano Con gaff A Londra Infatti Fa proprio Il giro del mondo Questa immagine Insulti al sindaco E stretta di mano Il rituale Alla regina E intanto Facciamo il punto Con Stefano Folli L'autentico Bersaglio Del premier Proprio raccontato qui Mentre Ezio Mauro Ci racconta Tiena Man Quei giorni Tra i ragazzi Del futuro E nella parte bassa Della pagina La storia Il paradosso Della legittima difesa Anche qui scopriremo Che cos'è Questo paradosso E soprattutto Se si parla Di legittima difesa Reale O tanto meno Si parla di altro E ancora un libro Tira l'altro The Game Continua senza di me A parlare Alessandro Baricco E intanto Vediamo Dalle altre Prime pagine Ci spostiamo Sul manifesto Vediamo che L'attenzione È proprio sul governo E il titolo Così L'articolo di apertura Prendere o lasciare Chiedo una risposta chiara O leale collaborazione O mi dimetto Conte A mercati chiusi Convoca i giornalisti E in diretta tv Manda l'ultimo avviso Agli alleati Salvini La Lega c'è Ma detta Le condizioni Un'ora dopo È rottura Sul DL Sblocca cantieri Domani la lettera L'Unione Europea E intanto Nella parte bassa Della pagina In visita a Londra È Trump contro tutti Spara zero Su Mosca e Teheran Offende il sindaco Canna E lancia Siluri su May E infine Nella parte più bassa Gli Stati Uniti Non sono un paese normale E si parla Dell'America Di Donald Trump Sbarcato ieri In Gran Bretagna Che dice È un paese normale Dovrebbe dircelo Pompeo Che ha dichiarato Per la prima volta Che gli Stati Uniti Sono pronti a negoziare Con l'Iran Senza precondizioni E ancora vediamo Gli altri fatti In primo piano E andiamo ad esaminare Il mattino Come ci racconta Infatti In questa giornata Partiamo proprio Dall'alto di questa pagina E vediamo Un reportage Da Portici Dove si studia Il cibo Per il mondo futuro E sembra proprio Essere così Nella cittadina Napoletana Si è già un passo avanti E si sta facendo qualcosa Per quello che sarà Il domani che verrà Intanto lo sport Dal Chelsea Alla Juve Il lungo divorzio Di Sarri E Giorginio Tradimento Il melodramma Di Napoli E 25 anni dopo Oggi ricorrono Proprio i 25 anni Dalla morte Di Massimo Troisi Scusate il ritardo Laurea onorem Però solo nel 2020 Ancora vediamo Nell'articolo di apertura Conte e Salvini Divisi dall'Unione Europea Ultimatum del Premier Ai Vice Collaborate o lascio I vincoli sul deficit Si rispettano E il leader leghista Dice Il voto dagli italiani Ha detto no Ed è rottura Subito Sullo sblocca cantieri Ancora vediamo Le altre notizie Il commento Se l'ex avvocato Del popolo Difende se stesso E in pensione Con 7 anni di anticipo Il maxiscivolo Per le grandi imprese Che hanno quindi Più di mille dipendenti Questo è il decreto Crescita E ancora vediamo L'ipotesi rimpasto La carta di Di Maio Diamo alla Lega I ruoli più duri E infatti è pronto a tutto Luigi Di Maio Anche a mettere sul tavolo I ministeri Nel mirino della Lega E gioca la carta Il leader 5 stelle Dell'accessione al carroccio Pensate un po' Dei ruoli più duri Mentre ci spostiamo A Napoli Dove Una bimba di soffra Solo 4 anni Proprio all'inizio Del mese scorso Parliamo del 3 maggio E' stata colpita Da un colpo di pistola Sparato Così Fra la gente E adesso Ha paura Noemi La piccola bambina Che è ancora Ricoverata A Santo Bono Non torno più in quella piazza Dice proprio la bambina Insomma Tante cose Non le ricorda Però a quanto pare Qualcosa Sembra Venirle alla mente Infatti Noemi migliora Ma non vuole più andare In quella piazza I nonni della piccola Ferita durante un agguato Di camorra In piazza nazionale Raccontano che alla piccola Hanno detto Che era caduta E per questo Si trova in ospedale Ma l'è con la vicina Ancora Debole Debole Ha detto Non voglio più andare A prendere Le patatine Lì Insomma Una frase Che in poco E con la semplicità Di un bambino Annuncia proprio La drammaticità Di un evento Che l'ha segnata E comunque Resterà a vita Nella sua mente Ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Si torna a parlare Dell'analisi Che viene fatta da Beraldo FCA e la Francia Nel paese Dei Polli Di Renzo Mentre nella parte centrale Vediamo il riconoscimento Di Hollywood Alla carriera Della regista Parliamo di Lina Wertmuller Dedico l'Oscar E a mie mori E alla Napoli Di Pasqualino Sette bellezze E la vediamo Ritratta proprio In questa immagine Tra Giancarlo Giannini E Leonardo Di Caprio E intanto Il lavoro Il lavoro ancora In primo piano Il lavoro che c'è Però Sembra venire meno L'accordo Whirlpool Per mesi Il ministero Non ha controllato Adesso parla Castano Ex direttore Dell'unità Crisi al Mise Le multinazionali Non rispettano Il mezzogiorno Infatti Da una parte Il governo Non ha fatto Fino in fondo La sua parte Lasciando sole Aziende e sindacati Ignorando che Le intese Una volta raggiunte Vanno seguite E dall'altra C'è un accanimento Delle multinazionali Nei confronti del sud E questo è il pensiero Di Giampiero Castano Fino a qualche mese fa Numero uno Dell'unità di gestione Crisi aziendale Del Mise E ancora Che poi dopo Non è stato confermato Però da Luigi Di Maio E intanto Il caso Porti e Zess Zone speciali L'ultimo scippo Del Veneto al sud Oggi infatti Il ministro Lezzi Incontrerà Gli industriali del Veneto Chiedono Che venga riconosciuta Una Zess Simile a quelle Dei sistemi portuali Del sud E insomma Anche qui Quello che viene Definito Un vero e proprio scippo E nella parte destra Della pagina Anche qui L'attenzione sulla Gran Bretagna La stretta ultra Così viene definita Di Trump Qualcuno salvi la regina E infatti Viene già definito Il ciclone Donald a Londra Nell'articolo di De Silva God Save the Queen E già che si trova Le consigli di adeguarsi Alla riscrittura Allo PAP Dei rituali diplomatici Insomma Sembra che tutto sia Stravolto Proprio in seguito Alla visita Di Donald Trump Alla regina E tutto diventa Qualcosa di irriverente E intanto Dalla stampa Allo strappo di Conte Con la Lega L'avvocato apre La crisi in diretta A TV E col voto A settembre Si affaccia All'incubo Dei comizi Balneari Mentre Bruxelles Prepara il processo Sul debito Avete fatto poco Ancora vediamo Nella parte centrale Trampa a Londra Onori a Elisabetta E insulti Al sindaco Cann E ancora Andiamo a vedere Le altre notizie In primo piano Ci spostiamo Su il dubbio Smettetela O mi dimetto Il premier Basta Liti Serve le alle Collaborazione Aspetto una risposta Rapida Conte ultimatum A Salvini E Di Maio Dite se si va avanti Io non voglio Vivacchiare E insomma Per essere un ultimato Manca solo il termine Temporale Il premier Giuseppe Conte Prova così Ad uscire Dall'angolo Della polemica Ma sembra Non riuscirci A pieno titolo E infatti Tante sono Le polemiche Che scaturiscono Da questa sua richiesta Che sembra Quasi essere Una richiesta Fittizia Ma quanto di Più Legittimo Ma anche Semplicistica Sia stata fatta Insomma Senza limiti Sembra andare Verso una direzione Dice vedete un po' voi Che cosa volete fare E intanto Nell'editoriale Coraggio e disperazione Di un premier Rimasto solo Questa è l'apparenza Questo è quello Che risulta essere Conte ormai Agli occhi Di tutti E diventa sempre Più complicato Intanto si parla ancora Di Toghe Il caso Palamara Il CSM È a rischio Oggi il plenum Decisivo E ci spostiamo adesso Sulle pagine Dello Sport Andiamo a vedere Il Corriere dello Sport Questa mattina Come ci presenta Le notizie Che sempre di più Fanno Il giro del mondo Tocca andrà un Sarri Il tecnico aspetta L'ufficialità Della rescissione E poi sarà Juve Domani è il giorno Panchine nuove Mercato vero La trave L'architrave Questo sembra Proprio ciò che cambierà La trave Ossia gli allenatori E devi aspettarti Un mercato diverso Dal solito Speciale Mai come in questa Tarda primavera L'anno scorso Siamo stati tutti presi Dalla vicenda Ancelotti Napoli E quindi lo spostamento Di Sarri A Chelsea Adesso il ritorno In Italia Di Sarri E di conseguenza La sua Il suo passaggio Proprio Alla squadra Rivale del Napoli E intanto vediamo Nella parte centrale Della pagina Ping pong Chiesa Diego Comisso Al centro C'è fede Della valle Con noi resterà Firenze L'americano Tratta e fa sapere Che non ha intenzione Di cedere il gioiello Inter E Juve Sempre però Alla finestra E ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Sulle testate sportive Con tutto sport E vediamo Un sorriso Che la dice Tutta CR7 Sì A Sardi Gioco offensivo E tanti gol Ronaldo è pronto A lavorare Con l'allenatore Che ha sempre Valorizzato I suoi attaccanti Da Higuain A Mertens A Hazard Il tecnico Attende solo L'ultimo via Libera da Londra Poi sarà a Torino Per firmare Con la Juve E intanto Nella parte bassa Della pagina Andiamo a vedere Le altre notizie Toro d'Olanda Con Ouejan L'alternativa È a Mario Rui E il commissario In arrivo Spalletti Per la nuova Fiorentivna E ancora Basket Crisi Milano Però li lascia Ma rimane Pianigiani E anche per Questo momento Della rassegna stampa La prima parte Dedicata ai quotidiani Nazionali È tutto Ma non finisce Qui la rassegna stampa Anzi Io vi do Qualche momento Di pubblicità Dopodiché Ritorniamo E vediamo I fatti Della regione Campania Non andate via Pianigiani 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 www.tecnocampus.it www.tecnocampus.it Siamo in studio, vi ricordo sempre che oggi è martedì 4 giugno, siamo in diretta con la nostra rassegna stampa e già pronti a vedere tutti i fatti che coinvolgono la regione Campania. E cominciamo con la cronaca, Napoli, sparatoria, i primi passi di Noemi, ora cammina con un busto dall'ospedale Santo Bonno, progressi per la bimba di 4 anni, ferita a piazza nazionale. Ha cominciato infatti a camminare dopo un mese, un progresso importante ed emozionante, atteso dalla sua famiglia con ansia. Ieri finalmente è arrivato Noemi, la bimba di 4 anni, ferita il 3 maggio scorso nel corso della drammatica sparatoria in piazza nazionale, ha mosso così i primi passi durante la riabilitazione guidata per il momento da un busto. L'ultimo grande risultato era giunto dall'equip medica dell'ospedale Santo Bonno, che un mese fa, grazie a una miracolosa operazione condotta nella notte dal chirurgo Giovanni Gaglione, aveva già salvato la vita alla bambina giunta in condizioni disperate al nosocomio del vomero. Noemi era stata colpita ad entrambi i polmoni e per fortuna i proiettili non aveva toccato nel cuore né la orta per pochi millimetri, altrimenti non ci sarebbe stato scampo. Non solo Noemi non ha riportato lesioni midollari, salvandosi così anche dalla paralisi, ma la pallottola che era andata all'apice di uno dei polmoni attraversando in obicolo la colonna vertebrale aveva leso comunque una delle vertebre. Insomma, una situazione brutta per la sua famiglia, ma anche per tanti che hanno atteso con il fiato sospeso di avere notizie proprio riguardo a questa bimba, che ovviamente è un'anima pia che non aveva nessuna colpa, semplicemente era in giro per le vie di Napoli e questo non deve assolutamente essere un limite, ma a quanto pare ancora oggi sembra che la situazione non sia migliorata nelle strade di Napoli, ancora non è stato fatto nulla, ossia dopo il clamore iniziale per l'evento in cui sono stati fatti tanti proclami per tutelare questa città e soprattutto i suoi abitanti, ma anche i turisti e i tanti che accorrono ogni giorno a vedere le meraviglie proprio di questo luogo incantato, a quanto pare ancora nulla è stato presentato come iniziativa per risolvere una situazione sempre più pericolosa. E intanto vediamo ancora la cronaca, sempre da Napoli, banda del buco irrompe nella banca e fugge col bottino, e i banditi sono arrivati dal sottosuolo e poi hanno puntato le armi contro i dipendenti. Una vera e propria rapina nel centro di Napoli, nel pomeriggio naziona una banda del buco che è riuscita a entrare nella Banca Popolare di Milano, e secondo una prima ricostruzione dei fatti i rapinatori hanno preso in ostaggio gli impiegati pistole in pugno. Quasi come fosse un film, ma la realtà era ben diversa, non era un film, ma era proprio tutto vero. Ancora vediamo, si parla di alta velocità, Battisti, Napoli-Bari in due ore entro il 2026. Questa è la promessa dell'amministratore delegato di Ferrovia dello Stato, investimenti su tutta la rete e sul trasporto regionale. L'obiettivo è quello di terminare entro il 2026 la Roma-Bari in tre ore, che vuol dire due ore da Napoli, e collegare due grandi città per creare un'unica grande area metropolitana. Ad affermarlo è proprio l'amministratore delegato di Ferrovia dello Stato, Gianfranco Battisti, che in occasione del decennale delle frecce ha ricordato come l'alta velocità, ha cambiato il paese dal punto di vista logistico. A suo avviso è il più grande progetto infrastrutturale dal dopoguerra ad oggi, e credo che i dati dimostrino che trasportiamo oltre 40 milioni di passeggeri l'anno e gli obiettivi da perseguire, ha poi proseguito, sono aumentare il livello qualitativo, l'offerta e cercare di estendere la rete, che oggi è solo su circa 1000 km. Insomma, tanti ancora i passi da fare, ovviamente questo è un passo decisivo, ma bisogna prestare attenzione a tutto ciò che accade sulla rete ferrovia dello Stato, anche e soprattutto nella nostra regione, dove le difficoltà sono all'ordine del giorno, soprattutto per tanti pendolari che ogni mattina si trovano a dover litigare proprio con disservizi e con situazioni poco piacevoli. E intanto cambiamo argomento e vediamo che a Napoli arriva Yuniki Ayama, l'animatore di Kenel Guerriero e le bizzarre avventure di Yo-Yo. Ed ecco qua vediamo un'immagine giapponese, 53enne, Yuniki Ayama, ricoperto nel 1987 il ruolo chiave di direttore delle animazioni per la serie TV di culto Kenel Guerriero, tratta dall'omonimo manga post-apocalittimo di Buronson e Tetsuara, in seguito tra il 1993 e il 2002, ha lavorato come carattere designer e capo animatore nell'adattamento in forma di anime, ossia i cartoni animati nel sollevante, delle bizzarre avventure di Yo-Yo, opera d'azione grottesca e sopra le righe, che ha conosciuto anche una curiosa ambientazione napoletana. Ayama, che ha profuso il suo impegno anche su serie come Tiger Mask, Drive Ther e Golden Kamui, sarà ospita proprio oggi, a partire dalle 17, dello Star Comic Store, negozio di fumetti e gadget, al Vomero in via Merliani, dove presenterà Brush Work, un MOOC di 128 pagine pubblicato da Nippo Shock Edizioni, che raccoglie splendidi sketch esclusivi e anche consigli professionali proprio dell'autore. Insomma, un'occasione grande per gli appassionati, ma anche per chi di questo vuole farne un vero e proprio mestiere, oltre che un'opera d'arte. E intanto vediamo che si parla questa mattina, ancora una volta di Universia, siamo sempre in lancio verso questo grande evento, la torcia a spasso per l'Italia con i big del calcio. A raccontarcelo è il mattino l'emozione di Davide Tizzano, infatti è grande, due volte olimpionico di canottaggio, vincitore della Louis Vuitton Cup di Vela, ed oggi al comando logistico dello sport universitario napoletano, quale coordinatore di tutte le discipline olimpiche che dal 3 luglio invaderanno con l'inoro 10.000 atleti la campagna per un'edizione che rappresenta un salto di qualità per lo sport regionale, sia perché è un'iniezione di sport agonistico, sia perché senza i giochi universitari la campagna non avrebbe avuto la possibilità di ristrutturare oltre 60 impianti a caccia di un profondo vernissaggio per essere a disposizione appunto di tutti gli sportivi. Ed ancora vediamo gli altri fatti che riguardano Napoli, Fontana Itaca, l'ira di Tata Fiore, il comune di Napoli è scomparso, adesso, dice, decideranno i giudici, infatti vediamo questa Fontana proprio nel centro di Napoli. Quattro mesi di silenzio, richieste di chiarimenti e delucidazioni in evase, sollecitazioni mai accolte, un comportamento che si somma all'offesa di settembre quando la sua opera fu smantellata senza che fosse avvisata e abbandonata in un deposito comunale. L'ennesimo oltraggio al maestro Ernesto Tata Fiore, quattro giorni dal vernissaggio della Galleria Casa Madre a Palazzo Partanna, che ne omaggia la carriera artistica con una mostra e di rientro da un'esposizione a Berlino. Dopo il sopralluogo di fine gennaio con i tecnici del comune di Napoli, nessuno si è poi più fatto vivo con l'artista. Stufi di un atteggiamento oltraggioso che ci lascia sconcertati, gli avvocati Carlo Perne e Alessia Barbati hanno deciso di proseguire le azioni legali, iniziate con lo spostamento della Fontana Itaca da via Scarlatti al Vometo e rinviate in seguito alle scuse da parte dell'amministrazione comunale, convinti che avremmo proceduto una civile ricomposizione della problematica. Ora però la misura è colma e venerdì ci sarà l'udienza legale proprio contro il comune di Napoli. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ancora cronaca, questa volta però si parla dei bar e dei locali. Stop, hai gazebo, fai da te e a Napoli arrivano le regole. Mai più teloni arrangiaticci, mai più gazebo, fai da te e mai più ombrelloni sotto i quali tavoli e sedie di plastiche dove far sedere i clienti saranno in primo piano. La sostanza è che i tavolini riempiono i luoghi e li sottraggono al degrado, ma è anche giunta l'ora di dare alle piazze attraverso un arredo urbano più curato e soprattutto uniforme l'aspetto di veri de or. Insomma, quella che è la Napoli che siamo abituati a vedere oggi subirà una trasformazione tale da renderla sicuramente più piacevole, più gradevole e questo lo scopriremo man mano che si procederà con queste azioni. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo nella provincia di Caserta, andiamo a vedere che cosa ci racconta Caserta News in questa giornata. Pizzo ai campi di calcetto, siamo dei casalesi. Da oggi le bibite le prendi da noi, della valle incastrati da un imprenditore e coraggio davanti al giudice. Spunta un'altra donna indagata, infatti da oggi tutti i prodotti che tiene nella vetrina a frigo li dobbiamo consegnare noi, qui mi manda Antonio della Valle. Noi apparteniamo al clan dei casalesi e quindi la merce da oggi in poi la prende da noi. Sono queste le parole pronunciate nei confronti del titolare di un complesso di campi di calcetto di Sant'Ammaro da parte di Giuseppe della Valle, 20 anni da capua, arrestato insieme allo zio Antonio della Valle di 49 anni con l'accusa di tentata, estolzione aggravata dal metodo mafioso. Insomma si continua davvero sempre più a esercitare una forte pressione contro nei confronti dei negozianti proprio per imporre la propria merce. E ancora vediamoci, spostiamo ancora ai fatti che riguardano la cronaca, l'ex sindaco di Antropoli esce dal carcere, lo vediamo nell'immagine. Il chirurgo ha i domiciliari a Riavisondoli dopo il rinvio a giudizio. Scusate, l'ex sindaco di Capo infatti torna a casa e quanto ha disposto il gruppo di Napoli Claudio Marco Pido che accogliendo l'istanza presentata dal difensore Mauro Iodice ha sostituito la misura in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari che il chirurgo ex primo cittadino sconterà fuori regione infatti a Riavisondoli. Antropoli è stato coinvolto all'inchiesta della DDA sui legami tra la politica del clan dei Casalesi in particolare di aver dato vita ad un patto con alcuni affidati per avere appoggio elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2016, quelle in cui Antropoli non era candidato ma sosteneva la candidatura di Giuseppe Chillemi al momento non indagato. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Giorgia Meloni, Castelvolturno, rischia di diventare la capitale mondiale della mafia nigeriana ed italiana. È stata proprio lei a dichiararlo ieri pomeriggio. Infatti dice a Castelvolturno servono sicurezza, legalità da una parte, sviluppo e lavoro dall'altra. Così esordisce il presidente dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in risposta ad un interrogativo cruciale su cosa possa davvero servire per risollevare il comune castellano. Lo abbiamo già scritto in una proposta di legge sottoponibile ad emendamenti e se dovesse arrivare questo decreto sicurezza bis, prosegue poi l'onorevole, da una parte questa proposta prevede la presenza dell'esercito italiano a Castelvolturno in un quadro di controllo dell'immigrazione che per me è diverso da quello attuato dall'attuale governo. Infatti non sono stati fatti i centri sorvegliati, cosa che c'è stata richiesta dall'Europa. Quando un immigrato arriva in Italia è clandestino, profugo, fino a prova contraria. Vengono controllati fino a quando non è stata evasa la loro domanda. Fatto questo, si saprebbe dove mettere questa gente quando ad esempio si sgombera una casa occupata abusivamente da coloro che non rispettano le regole. La presenza dell'esercito per me significa dichiarare guerra alla mafia nigeriana ed anche quella italiana dato che è un perfetto connubio Castelvolturno. È davvero un posto stupendo ma rischia di diventare la capitale della mafia nigeriana. Non è un caso e qui l'FBI è arrivata a fare proprio uno studio sul traffico di organi. Insomma queste le parole del presidente di Fratelli d'Italia che definisce appunto Castelvolturno una città a notevole rischio. E ancora vediamo un evento di sport che ha coinvolto San Nicola la strada. Stiamo parlando della maratonina, 17 anni di emozioni. Infatti si è tinta per la 17esima volta San Nicola la strada dei colori dell'atletica leggera, quelli del podismo e quelli dell'atletica San Nicola. È quasi un visticcio di parole se vogliamo ma ci sta tutto. La maratonina di San Nicola la strada organizzata dall'associazione attualmente preseduta da Pietro Maienza ha consegnato agli archivi anche l'edizione 2019. È un successo semplicemente straordinario dove i vincitori veri non sono stati solo coloro che hanno tagliato il traguardo ma tutti i protagonisti di una serie incredibile di emozioni che sono state raccontate appunto in quest'articolo sul quotidiano Il Corriere di San Nicola anche perché come stiamo vedendo grazie all'Universiadi ma grazie anche a tanti eventi sportivi che nel nostro quotidiano vediamo arricchire la provincia di Caserta rappresentano un movimento fondamentale proprio per l'intero territorio. E certo è che lo sport fa bene al corpo ed anche la mente e quindi noi ci auguriamo che questi eventi continuino ad aumentare e soprattutto a rendere le persone sempre più appassionate di qualsiasi sport che li possa coinvolgere. E con questo consiglio e con questo augurio che faccio a me come a voi tutti vi ringrazio per essere stati con noi. Termina qui la rassegna stampa di oggi e soprattutto ringrazio Tecnocampus che come ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazioni, un'informazione critica, commentata e soprattutto alla portata di tutti. E per quanto riguarda me un saluto a tutti voi e vi auguro una splendida giornata. E per quanto riguarda me un saluto a tutti voi e vi auguro un saluto a tutti voi e vi auguro un saluto a tutti voi. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.